I consiglieri di minoranza di Ponte Cagnano-Faiano hanno protocollato la richiesta di convocazione di un consiglio monotematico sulla questione rifiuti e sulla tutela ambientale. Alla base della richiesta l'emergenza divenuta ormai quotidiana e la problematica relativa all'impianto di Sardone, che a breve potrebbe ospitare le ecoballe provenienti dallo stir di Battipaglia. Chiediamo al sindaco e all'amministrazione un confronto chiaro e urgente, si legge nel documento della minoranza. Per illustrarci intenzioni e programmazioni in modo da poter condividere un percorso che tuteli la nostra comunità e avvii una radicale riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento.